La verza, un tesoro di salute tra le foglie. La verza, questo ortaggio invernale, non è solo un cibo saporito, ma è anche una fonte di innumerevoli benefici per la nostra salute. Si tratta di una varietà di cavolo particolarmente ricca di proprietà nutritive. Le sue foglie di un verde intenso nascondono un tesoro di vitamine e sali minerali. Tra questi, spiccano la vitamina C, il calcio e il potassio. Questi elementi la rendono un alimento molto prezioso per il nostro organismo. I benefici della verza sono molteplici. Uno dei più conosciuti è sicuramente l'azione antiossidante, grazie alla presenza di vitamina C e di composti fenolici. Questo la rende un alleato prezioso per combattere l'imbecchiamento cellulare. Inoltre, le fibre contenute nella verza favoriscono il senso di sazietà, aiutando così a controllare il peso. Questo ortaggio è quindi ideale in un regime alimentare ipocalorico. La verza contiene anche sostanze che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. Queste sostanze, chiamate glucosinolati, contribuiscono a mantenere basso il livello di colesterolo nel sangue. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora, torniamo ai benefici della verza. Un altro vantaggio della verza è la sua azione anti-infiammatoria. Questo ortaggio contiene infatti sostanze che aiutano a ridurre le infiammazioni, favorendo il benessere dell'organismo. Non solo, la verza è anche un buon alleato per la vista. Grazie alla presenza di luteina e ziaxantina, contribuisce alla salute degli occhi e alla prevenzione delle malattie oculari. La verza è anche una grande fonte di calcio, quindi è ideale per chi non consuma latticini o per chi ha bisogno di un supplemento di questo minerale. Il calcio è infatti fondamentale per la salute delle ossa e dei denti. Non dimentichiamo poi l'azione depurativa della verza. Questo ortaggio, grazie alla sua ricchezza di fibre, favorisce il transito intestinale e aiuta a eliminare le tossine. Anche se la verza è un alimento molto sano, ci sono alcune controindicazioni. Ad esempio, non è consigliata a chi soffre di problemi alla tiroide, perché può interferire con l'assorbimento di iodio. Inoltre, la verza può causare gonfiore addominale in alcune persone. Se si è soggetti a questo problema, è consigliabile consumare questo ortaggio con moderazione. Va detto anche che la verza può interagire con alcuni farmaci, riducendo la loro efficacia. È quindi importante consultare il medico prima di consumare verza in maniera regolare se si stanno assumendo medicinali. Nonostante queste controindicazioni, la verza rimane un alimento molto prezioso per la nostra salute. È importante includerla nella nostra dieta, magari alternandola ad altri ortaggi. In conclusione, la verza è un ortaggio che offre molti benefici alla nostra salute. Non solo, è anche molto gustosa e versatile in cucina. Non perdere l'occasione di inserirla nella tua dieta. Ricorda sempre di consumare la verza in modo equilibrato, evitando di eccedere con le quantità. In questo modo, potrai beneficiare di tutte le sue proprietà senza incorrere in possibili controindicazioni. E tu, conosci altri benefici della verza? Condividi con noi le tue ricette preferite. Ricorda, la tua salute inizia dal tuo piatto. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.